Purtroppo Lanci in questo periodo è stato semplicemente un altare per la presidenza del Consiglio e per questo governo, i comuni sono stati massacrati, devo dire principalmente con il governo Monti, ma per proseguire fino al governo Renzi, io ricordo che i famosi 80 Euro sono stati fatti con i soldi dei comuni coperti e degli enti locali e delle regioni, con l'Imu agricola, io voglio solo sottolineare la foglia di questo individuo, Cioè questo mette l'Imu, non esagerare, mica l'offeso, è un dato di distanza, ognuno si assume la responsabilità delle parole, ho semplicemente detto un dato di fatto, questo mette, perché per me è un governo follo, un Presidente del Consiglio folle, uno che introduce l'Imu agricola e poi qualche mese dopo va là a dire ho trovato la soluzione, tolgo l'Imu agricola, è una persona che non è normale.